Gioia e dolori Problema da risolvere Qui abbiamo risolto Come ho fatto? Prima cosa Vediamo tutta quella porcheria di svido che ho messo Siccome è un supporto di plastica che striscia su due molle in teflon Vediamo un po' Se continuo a farlo Ancora Quindi ora Uovo di colombo Un po' di borotalco Tagliamo questo Anzi Un altro Un altro po' sotto Passiamo alla prova Ha smesso Perfetto Buon lavoro Perfetto 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 Perfetto